E si fa festa anche a Bolzano, in particolare in Via Aosta con l'omonima Sagra. Vediamo. Samba! Ha preso il via alle 17 con la sfilata brasiliana alla Sagra di Via Aosta a Bolzano, una delle feste più apprezzate da Mase dai Bolzanini, giunta alla 36esima edizione. Organizzata dal club Rodigino in collaborazione con gli alpini del gruppo Ana di Bolzano, il comune e la circoscrizione Europa-Novacella. Un mix di buona musica e cucina per accontentare tutti. La Sagra di Via Aosta è veramente una delle feste più significative della nostra città, è una festa importante per questo quartiere, è una festa importante per il club Rodigino, per gli alpini dei piani, per tutti i volontari che la organizzano, ma è soprattutto una festa importante per la gente. La gente che esce in strada, partecipa, fa vivere il quartiere, quindi veramente è una bella occasione per stare insieme. Non perdere, ogni anno si fa quella e alla fine ci divertiamo e facciamo le cose come si deve. Ci divertiamo, balli, si mangia, le cose varie. Cosa preparate di buono? Io un po' di tutto, pesce, hamburger, baccalà, un po' di tutto. La Sagra di Via Aosta è una tradizione, deve venire per noi, per tutti, per gli alpini, per il club Rodigino. È una cosa bella, io spero che duri nel tempo. La Sagra di Via Aosta, come consueto, verrà riproposta anche il prossimo weekend, con gli immancabili fuochi d'artificio a chiudere la rassegna. La Sagra di Via Aosta La Sagra di Via Aosta